Previsioni meteo per venerdì 26 luglio. Al nord, condizioni anticicloniche e bel tempo su litorali e balpadana, temporali o acquazzoni pomeridiani su settori alpini. Al centro, bel tempo salvo fenomeni temporaleschi sull'Appennino, caldo torrido sulle zone interne, a fa lungo le coste. Al sud, alta pressione, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo locali annuvolamenti sui rilievi. Venti, deboli variabili. Mari, da poco mossi a mossi. Temperature, in lieve aumento.